Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come in me per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Leggina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Leggina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Mamma Santa, tu mi farei da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Divina Volontà Vieni, Divina Volontà Ria ordina in me il tuo voler, divina Vorontà Tu per la preziosa della Chiesa, viene, viene, divina volontà, viene, viene, divina volontà, riversa in me il dono della tua vita, divina volontà, viene ad intentare il regno in noi, divina volontà. Divina Volontà Divina Volontà Divina Volontà Dal libro di cielo, volume 6, 7 settembre 1904 Capitolo 68 Stavo impensierita per aver letto dentro di un libro che il motivo di tante vocazioni frustrate è il mancato, incessante, dolore del peccato e siccome io non ci penso tanto a questo e penso solo a Gesù Benedetto e al modo come farlo venire e di nessun'altra cosa mi curo quindi pensavo tra me che in male stato mi trovavo onde trovandomi nel solito mio stato il Benedetto Gesù mi ha detto figlia mia, l'attenzione di non commettere peccato supprisce al dolore ed ancorché uno si dolesse e con tutto ciò commettesse peccati il suo dolore sarebbe vano ed infruttuoso mentre l'attenzione continua di non commettere peccati non solo tiene luogo di dolore ma sforza la grazia continuamente ad aiutarla in modo speciale a non cadere in peccato e mantiene l'anima sempre purgata perciò seguita a stare attenta a non offendermi minimamente che sopprirà a tutto il resto capitolo 69 8 settembre 1904 continuando il solito mio stato il mio adorabile Gesù non ci veniva onde avendo molto stentato mi sentivo tutta scoraggiata e temevo forte che questa mattina non ci venisse del tutto quindi essendo dopo venuto quando appena mi ha detto figlia mia non sai che uccide più anime lo scoraggiamento che il resto degli altri vizi perciò coraggio coraggio perché come uno scoraggiamento ci uccide così il coraggio fa rivivere ed è l'atto più lodevole che l'anima possa fare mentre perché mentre si sente scoraggiata dallo stesso scoraggiamento prende coraggio disfa se stessa e spera e disfacendo se stessa già si trova rifatta in Dio 9 settembre 1904 capitolo 70 continuando il mio solito stato mi sentivo turbata per l'assenza del mio adorabile Gesù onde dopo aver molto stentato è venuto e mi ha detto figlia mia come l'anima esce dal fondo della pace così esce dall'ambiente divino e si trova nell'ambiente o diabolico o umano è la sola pace che fa scorgere se l'anima cerca Dio per il Dio o per se stessa e se opera per Dio oppure per sé o per le creature perché se è per Dio l'anima non è mai turbata si può dire che la pace di Dio e la pace dell'anima si combaciano insieme e dintorno all'anima si allargano i confini della pace in modo che tutto converte in pace anche le stesse guerre e se l'anima è turbata fosse pure nelle cose più sante in fondo si vede che non è Dio ma il proprio io o qualche fine umano perciò quando non ti senti calma richiama un po' te stessa per vedere cosa c'è in fondo distruggilo e troverai pace bene oggi il Signore attraverso questi tre capitoletti dà importanti indicazioni ascetiche per la vita spirituale tre grandi indicazioni una di essi è un tema ricorrente insomma che poi approfondiremo che è anche quella dove Gesù oggi arricchisce diciamo le istruzioni le raccomandazioni con alcuni punti e spunti ulteriori da ben approfondire e quindi rivediamo lentamente e approfonditamente insieme il primo ecco Luisa diciamo così si preoccupa un po' perché legge in qualche libro di devozione che il motivo di tante vocazioni frustrate è il mancato incessante dolore del peccato e lei dice ma io non ci penso tanto a queste cose quanto ad amare Gesù benedetto ecco e quindi si preoccupa dice e come farlo è il modo come farlo venire e quindi si preoccupa dice ma se io non ho il dolore per il peccato quindi vado a frustrare anche la mia vocazione quindi anche Gesù non farà con me quelle cose che che vorrebbe fare no? quindi questo è un pochino il senso del suo discorso Gesù però gli spiega che nella vita interiore ci sono due metodi di procedere c'è un metodo negativo diciamo così e un metodo positivo questo non è soltanto Gesù a dirlo no? questo era un principio una raccomandazione che si trovava già in qualche autore spirituale no? ricordo anche lo stesso Sant'Ommaso d'Aquino no? nella vita interiore si può procedere in due modi o come dire dolendosi e cercando di reprimere espiare correggere il male commesso e questa è cosa molto buona oppure però certamente una volta che uno si è fatto grandi peccati deve riconciliarsi con Dio quindi qui teniamo sempre presente che sta parlando un'anima santa quindi un'anima che non ha ma forse Luisa non avrà mai fatto un peccato mortale non lo sappiamo certamente insomma anche accorato a prescindere diciamo da tutto quanto il mondo della divina volontà gli iscritti eccetera era chiamata Luisa la santa insomma quindi per essere chiamata Luisa la santa ecco quindi sappiamo tante cose no però supponiamo un grande peccatore allora grande confessione generale benissimo è necessario in quelle circostanze però il problema è che dopo che mi sono riconciliato che faccio cioè continuo per una vita io qui parlo anche per esperienze insomma di anima a tormentarmi a scorticarmi a ripensare a tante cose fatte oppure vado al positivo quindi investo le energie nel crescere per esempio nell'amore a Gesù per esempio oppure nel impegnarmi nelle virtù San Tommaso diceva si cresce in grazia riducendo i peccati o ampliando l'ambito il margine delle virtù e questa certamente è cosa molto dice molto più frittuosa la seconda perché andare al positivo quindi investire sul positivo produce effetti maggiori questo vale anche sul piano educativo no? sul piano educativo dice cosa facciamo per esempio con con i figli che tipo di educazione diamo li incitiamo e li sproniamo sempre più al bene o stiamo sempre a stigmatizzare sbagli peccati errori per carità cioè in alcune circostanze non si può non fare una cosa di questo genere non è proprio uno stile che deve cambiare così la vita non è una divina volontà adesso a prescindere da queste circostanze contingente è una vita alla luce del sole d'accordo? anzitutto ma è una vita positiva propositiva quindi non si sta come dire in quella tristezza in quell'ombra in quel in quel crogiolarsi un po' a stare troppo a ripensare a tante cose fatte o non fatte a affliggersi a dolorarsi no? no? ecco no no quindi piuttosto si cerca di ampliare l'ambito del bene basti questo per questo primo punto investire sull'ambito del bene Gesù dice sta attento a non offendere minimamente che supplida tutto il resto quindi l'attenzione continua di non commettere peccati non solo tiene luogo di dolore ma sforza la grazia continuamente ad aiutarla in modo speciale non pensare tanto a quello che hai fatto pensa a non offendere più Gesù e a crescere nella virtù questo è molto più fruttuoso e molto più positivo ricordando anche che noi sul passato non abbiamo potere abbiamo potere sul presente e sul futuro quindi questo certamente sì quindi bene e questo basti per questo primo punto il secondo lo scoraggiamento questo è un altro tema ricorrente sia negli scritti di Luisa che in tutti quanti diciamo così gli scritti ascetici questi sono un pochino temi classici della spiritualità il fatto che Gesù spesso approfondisca queste cose non mi stancherò mai di ripeterlo perché deve essere chiaro ecco adesso il Papa quando dice qualcosa dice mettetevelo bene in testa e nel cuore ecco questo è un punto bisogna mettersi bene in testa che la vita nella divina volontà presuppone tutta tutta la più sana e genuina spiritualità ascetica cattolica d'accordo la presuppone quindi non puoi tu entrare vivere nella divina volontà se prima non la fai e non la fai bene e per farla devi percorrere il cammino di santificazione che hanno percorso tutti non ci sono scorciatoie vie privilegiate certamente anche se Luigi dice sì la via la direzione della Madonna ti fa fare un po' prima un po' più breve più dolce più soave però capito i capisaldi della vita spirituale del percorso di santità sono sempre gli stessi non possono essere altri non è che se fino a ieri hanno sempre pregato tanto i santi per diventare santi adesso si prega poco non è che se fino a ieri raccomandavano se vuoi diventare santo fai la confessione frequente quindi una la confessione ogni otto giorni adesso no la facciamo una volta ogni quattro mesi non la facciamo per niente non è possibile una cosa del genere oppure abbiamo messo tutti i giorni ma no ma la messa è che ci ha fatto tutti i giorni ci basta la domenica non sono possibili queste cose bisogna completamente sgombrare il pensiero togliersela dalla mente altrimenti si travisa l'insegnamento di Gesù sulla divina volontà non lo si interpreta rettamente quindi è sempre un percorso come dire di bisogna sempre tenere presente quello che Gesù ha detto nel discorso della montagna io non sono venuto ad abrogare ma a a perfezionare a mettersi d'aguglie sopra la cattedrale a portare a portare a complimento a portare a perfezione quindi a superare ma non nel senso di distruggere e fare altro ma nel senso di andare oltre ancora oltre d'accordo? ecco allora è un principio generale della scedia che lo scoraggiamento è come dire stato interiore da combattere da bandire da distruggere completamente da proprio da mandare via quindi senza nessun tipo di possibile come dire compromesso chance zero deve essere mandato via senza proprio appello via questo bisogna mandarlo via altrimenti siamo rovinati perché lo scoraggiamento fa tantissimi danni mortifica le le facoltà dell'anima le indebolisce le svuota fa cadere nella malinconia che abbiamo visto ieri o a volte nella disperazione niente quindi si sentiva scoraggiata Luisa perché Gesù non veniva coraggio se non viene oggi verrà domani non ti preoccupare ti senti scoraggiata perché hai fatto una piccola caduta coraggio rialzati domani andrà meglio quindi cioè ecco quest'altro aspetto come dire ecco si badi anche qui della della propositività della positività della vita spirituale no lo scoraggiamento è un fatto negativo è un abbattersi è un ripiegarsi su se stesso non guarda scoraggia perché guarda le proprie misere le proprie debolezze le proprie inadeguatezze ecco e non guarda a lui d'accordo ecco certamente noi dobbiamo come dire utilizzare alcuni alcune molle dello scoraggiamento quindi alcuni principi per investirli nel bene Gesù dice di sfare se stessi per trovarsi di fatti in Dio questa è un'altra cosa però d'accordo la diffidenza verso noi stessi che poi genera l'umiltà quindi la consapevolezza che siamo miseri d'accordo e che quindi siamo capaci di tutto come diceva il buon San Francesco tienimi io sono il più grande peccatore della terra e lo diceva non facendo come dire giocando a fare l'umile tante volte ne ho parlato ma pensandolo veramente se non sono peccatore in atto e non dovremmo essere peccatori in atto almeno grandi peccatori lo sono certamente in potenza e lo sono in atto nel senso che sono pieni di debolezze di misere di imperfezioni numerevoli per cui faccio tante cose che certamente non vanno davanti a Dio ma questo dobbiamo esserne persuasi che non me ne rendo neanche conto e magari a volte delle cose che dispiacciono non poco a Gesù pur senza arrivare alla categoria del peccato mortale ne posso essere pieno senza esserne consapevole queste ferme persuasioni devono esserci dentro la nostra anima perché possiamo slanciarsi verso la fiducia e l'affidamento totale in Gesù e la sana e santa diffidenza di noi che è cosa però diversa molto diversa dallo scoraggiamento perché fidarsi di Gesù e di fidare di noi porta la pace e la serenità d'accordo scoraggiarci facendosi dimenticare di Gesù e della sua potenza e portandoci a ripiegarci su noi stessi ci porta all'angoscia o altre situazioni a tutto c'è sempre una soluzione poi c'è sempre la soluzione finale non vorrei utilizzare questo termine nel senso che quando anche tante situazioni dovessero come dire essere difficili noi siamo sempre dire Gesù senti quanti anni c'ho? 50? 40? 30? va bene quanti siano? questa palla di lacrime alle ore contate ora ci santifichiamo stiamo sotto prova offriamo tutte queste croci confidando in te nella certezza che tu me le metti davanti arriverà il giorno in cui queste croci ti trasformeranno in gemmi in cui riposerò sul tuo grembo e andiamo avanti quindi ecco la capacità di trasformare in positivo tutto ecco poi l'esortazione sul turbamento e sulla pace allora numero uno questo è un principio generale come l'anima esce dal fondo della pace esce dall'ambiente divino e si trova nell'ambiente attenzione o diabolico o umano frase da imparare a memoria la pace nel fondo dell'anima vedete quando Gesù dice per vedere cosa c'è c'è in fondo è chiaro che purtroppo ecco nella nella nostra esperienza di vita interiore noi facciamo esperienza di sconquassamenti non lo so un giorno arriva una brutta notizia arriva una grossa croce arriva un imprevisto la morte di una persona cara insomma la vita purtroppo questa si chiama nella salve regina una valle di lacrime quindi arrivano le bombardate questa è normale arrivano le bordate possiamo chiamarle non immaginiamo un bombardamento in una città oppure una bordata quando si sta per esempio in barca che arriva una sberla insomma un'onda di quella che fa scuotere un pochettino la navicella però pensiamo come reagisce quello che sta al timone entra nel panico o mantiene la calma Timone dice vabbè è arrivata a stonda adesso cerchiamo di guidare bene la nave perché l'arrivo dell'onda l'ha destabilizzata quindi cerchiamo di rimetterla in piedi e di fargli recuperare la rotta ecco questa immagine deve dare un pochino l'immagine di quello che deve essere la reazione nostra quando rimaniamo nella pace alle bordate le bombardate che arrivano allora dobbiamo anzitutto su questo non assecondare mai l'emotività nel senso che dinanzi ad una bordata ad una bombardata noi abbiamo subito la tendenza a reagire ad agitarci o a vedere quello che si deve cioè calma la nostra regola di vita deve essere qualunque cosa succede regola numero uno calma calma specialmente quando vediamo in certe reazioni quindi anche quando ci fosse qualche cosa di effettivamente delicato tale che possa farti capire che si stanno aprendo prospettive di sofferenza di croce di tribolazione orizzonti pericolosi la prima cosa da fare è calma c'è un passo bellissimo del profeta Esaia credo che diciamo nella calma e nella calma sicuramente sta la vostra forza nella conversione forse nella calma sta la vostra forza adesso lo dovrei trovare voglio un attimo nella conversione nella calma sta la vostra salvezza Esaia 3015 nell'abbandono confidente sta la vostra forza questo dobbiamo sempre ricordarlo e poi prosegue ma voi non avete voluto vivere in questo modo Esaia 3015 perché appena si esce da qui si entra o in ambito umano quindi si fanno stupidaggini derivanti della punta umana o peggio si entra in ambito diabolico quindi si è facilmente governabili dal demonio che pesca sempre nel torbido cioè le acque agitate sono il suo regno poi è la sola pace questo è molto importante che fa scorgere se l'anima cerca Dio per il Dio per se stessa attenzione e se opera per Dio oppure per sé o per le creature attenzione 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 se l'anima cerca Dio per il Dio per se stessa allora ti è arrivata una croce se ti arriva una croce è volontà di Dio che tu la soffri se ti agiti non stai cercando Dio per te stesso ma tu cerchi Dio nell'illusione falsa tra l'altro Gesù non mi ha promesso a nessuno proprio sul contrario che Dio ti tenga sempre tranquillo sereno e senza nessuna difficoltà e senza nessuna sofferenza non lo stai cercando per te stesso attenzione operare per Dio per se stesso ti arriva un impedimento una cosa che ti impedisce di fare una cosa anche bella anche santa un esempio cretino daria 40 di febbre non puoi andare a messa per 4 giorni ma tu stai tranquillo a messa non ci stai andando no perché non vuoi ma perché Dio ti mette nel letto e quindi finito perché tu non vai a messa per te ma tu vai a messa per Dio o per le creature è venuto 40 di febbre e ora i figli piccoli hanno bisogno di me io devo stare a letto e non ci posso stare presso che problema c'è? anche una mamma nei confronti dei figli quello che fa nei confronti dei figli nella divina volontà lo fa sempre con l'intenzione io opero per i figli perché questo è quello che Dio vuole perché i figli me li ha donati e me li ha affidati e quindi io li curo se mi mette nell'impossibilità materiale oggi di stargli appresso chiamo mio marito e gli dico stai appresso ai figli perché ho 40 di febbre e in questo rimango tranquillo no ma ho 40 di febbre ah ma devo fare questo ah ma devo fare l'altro ah ma devo cucinare ah ma devo andare qua ah ma devo andare là ecco cioè queste sono cose proprio terra terra molto molto concrete ma la vita è fatta di queste piccole cose non dobbiamo pensare a perdere la pace o non perdere la pace quando in ansia chissà cosa no? e poi questi sono esempi banali si potrebbero moltiplicare anche con cose molto più ancora più quotidiane no? perché se è per Dio l'anima non è mai turbata perché se io cerco Dio per Dio mi prendo tutte le cose che lui mi manda sapendo che da ogni cosa che mi manda c'è un bene che vuole darmi e certamente lavoro e lavoro molto per lui eh il Papa è giovane a Palermo ha detto che benissimo che se c'è una cosa che non piace a Dio è la pigrizia e che noi dobbiamo essere molto attivi e solleciti nell'operare per la sua gloria sempre con calma quindi senza cadere nell'iperattivismo e nell'agitazione ma certamente tante volte il Papa ripete non basta non fare il male occorre fare il bene ha citato un santo l'altro giorno che diceva non fare il male è cosa buona ma non fare il bene è brutto quindi cioè nella divina volontà sappiamo che la divina volontà la divina volontà è lo fa senza fatica perché la divina volontà insomma non è come quando opera li stancano ma la divina volontà è iperattiva cioè proviamo a contemplare tutte le opere che ha fatto insomma solo che uno entra nel fiat creante ci potrebbe passare tutta l'eternità a contemplare gli atti della divina volontà senza avere finito i nostri giri sono sempre molto molto limitati si pensi per esempio quando uno va in un bosco in un bosco ci stanno soltanto gli alberi ci sono le foglioline degli alberi ci sono i rami degli alberi ci sono le radici degli alberi ci sono le foglioli ci sono i frutti ci sono tante le foglioline che sono vedute per terra d'accordo vogliamo volare andare a mettere il ti amo in ogni centino in ogni atomo delle foglioline cadute capite eppure in un atomo di una fogliolina di albero c'è un atto della divina volontà ecco ma sempre tutto con pace anche nell'operare voglio fare una cosa voglio fare cioè voglio mi si prospetta di fare una cosa bella per la gloria di Dio sto in possibilità concreta di farla non la faccio non la faccio perché se Dio mi mette nell'impossibilità concreta a volte c'è qualche piccola difficoltà che si mette di traverso il demonio allora ovviamente io posso provare a superare una difficoltà quindi vedere perché non posso essere sicuro la prima difficoltà d'accordo quindi ci provo se vedo che la cosa veramente non è aria vuol dire che il nostro signore mi sta facendo capire che non è aria quindi quella cosa non la vuole e quindi io con la massima pace possibile non la faccio non la faccio perché se mi impuntassi non sto più cercando Dio sto operando per me o per le creature è una cosa bella per il prossimo per la ricerca che mi dicono bravo la gratificazione fare bella figura ancora tutte altre cose allora vedete che l'anima che viene nella Dino Vontà converte tutto in pace anche le stesse guerre e attenzione se l'anima è turbata di Gesù fosse anche nelle cose più sante non è che una cosa santa dice ah su questa mi posso turbare perché è santa quindi bisogna parlare per forza no 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 fosse anche nelle cose più sante in fondo si vede che non è Dio ma il proprio io ho qualche fine umano qui dobbiamo fare l'esame di coscienza sinceramente d'accordo quindi capite anche che bello ma anche quanto è impegnativo vivere nella Divina Volontà quindi non sono chiacchiere queste qui queste non sono chiacchiere questo capite che la mangiata di domenica rinneghi se stesso che significa questo significa d'accordo questo cioè tu stai continuamente in atto di confrontarti con quello che Dio vuole e cedere il passo a quello che Dio vuole solo questo ti fa mantenere la pace quando non ti senti calmo e vediamo così la meditazione di oggi come chiude il resto Gesù richiamo un po' te stessi a vedere che cosa c'è in fondo perché mi sto agitando perché sto perdendo la pace e vedrai che lo troverai cosa mi sta muovendo ad agire perché reagisco in questo modo o trovi una passione o trovi un difetto o trovi un'altra maschera dell'io o trovi qualche attaccamento umano piacere agli uomini punto sicuro ecco o qualche inganno del diavolo perché quando si esce dalla pace si entra in ambiente o umano o diabolico a volte dove la pace non c'è questo ricordiamolo sempre quando la nostra coscienza comincia a turbare Dio non c'è questa è un'equazione matematica d'accordo e dobbiamo sempre mettere in pratica e secondare sempre questa cosa fuggire da tutto ciò che ci toglie la pace del cuore compresi ambienti situazioni tutto tutto non occorre aggiungere altro la coscienza illuminata dalla fede farà ben comprendere queste cose qui fuggire da tutto ciò che ci toglie la pace e ci fa entrare nel turbamento qui ci toglie Grazie a tutti. Non è un caso che la chiesa ti chiama regina della pace perché il tuo mondo, il tuo oceano interiore è l'oceano pacifico, sicuramente l'oceano che preferisci è sicuramente l'oceano pacifico. Quello che più ti assomiglia. Possono anche le nostre anime sempre viaggiare su queste rotte di calma e di pace, di sano coraggio, propositività, positività. Lontana da noi ogni cosa che ci porti a ripiegarsi su noi stessi, a entrare in sterili, piagnericci, lamentele, ripiegamenti inutili su noi stessi. Dove c'è sempre il mostro dell'io e dell'umana volontà da cui tutti vogliamo essere liberati. Nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria